3, 2, sportivi e cittadini di tutto il mondo, pronti, via! Sport e solidarietà si sono unite per la bibicità. Una manifestazione politica internazionale in contemporanea su percorsi compensati. Abbiamo visto tanta gente, tanta gente anche che arriva da lontano. Sì, è una caratteristica della bibicità, sempre all'insegna di un tema sociale o ambientale. Bibicità è tornata tra i campi profughi palestinesi in Libano. La bibicità è entrata in un carcere coinvolgendo detenuti e agenti di polizia penitenziaria che hanno gareggiato insieme. Migliaia di persone hanno partecipato in questi giorni a Bibicità. In decento le città di tutto il mondo toccate da bibicità la gara turistica più lunga della pianeta. Alla prossima! Alla prossima! Partiamo! Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti